Musica Attualmente non c'è nessuna transazione in corsa, non c'è nessuna procedura avviata in questo senso. In Commissione si è discussa semplicemente della questione perché, dal punto di vista dell'opportunità di realizzare quest'opera o meno. Non abbiamo fatto altro che ripercorrere i passi che si sono succeduti dall'insediamento di questa nuova amministrazione a oggi, ripercorrendo quelle che sono state le fasi fondamentali che hanno condotto alla scelta di non eseguire questa opera pubblica che sarebbe stata così invasiva e così anche non opportuna dal punto di vista della situazione attuale. Tra l'altro, come tutti sapete, c'è stata una determina dirigenziale che ha annullato il percorso avviato fino a quel punto, quindi la Giunta non ha fatto che prendere atto di questa determina e agire di conseguenza. Sì, allo Stato resta, naturalmente poi ci saranno occasioni e sedi giuste perché questa scelta sia discussa se necessario e condivisa dalla maggioranza. No, perché non essendoci allo Stato questa questione del contenzioso non è neanche possibile fare delle ipotesi in tal senso. Sì, allo Stato resta, naturalmente poi ci saranno occasioni e condividere atto di questa nuova amministrazione alla scelta di non eseguire questa nuova amministrazione alla scelta di non eseguire questa nuova.